Ciao a tutti, come trattare i manipolatori che fanno i gelosi ma poi in realtà ti tradiscono? Allora, ti tradiscono o comunque mettono in alto dei comportamenti sbagliati. Allora, il manipolatore ha questa caratteristica, no? Che cerca sempre di farti sentire in colpa per tutte le situazioni che tu hai. E allora, ci sono due sistemi per contramanipolare, tra virgolette, i manipolatori. Il primo è quello di prendere spunto da qualcosa che fanno loro e cercare sempre di far vivere il senso di colpa. Quando tu gli dirai, no, guarda, stasera sono con un amico perché tu non sei mai disponibile nei miei confronti, quindi io starei volentieri con te tutto il weekend ma tu non ci sei e quindi me ne esco con un amico. Oppure, guarda, io me ne esco con un amico perché tu ti stai comportando male nei miei confronti. Ecco, questo ti stai comportando male nei miei confronti deve essere un qualcosa di generico, no? In modo tale che tu non sa, lui non sa perché tu stai dicendo questo, ma usando una formula generica, siccome qualcosa avrai fatto di sicuro, lui intenderà proiettare quello che ho fatto sulla frase che tu dici. E poi si dice, ma cosa ho fatto? Eh, ci vede, lo sai benissimo! Mi chiede ancora cosa hai fatto! Brutto stronzo per dire, no? E quindi dici questo e tu continui e quindi questo è il modo migliore per contromanipolare i manipolatori, quindi far vivere i sensi di colpa. Far vivere i sensi di colpa e fargli credere che tu stai facendo questo proprio perché lui si è comportato male. Questa è l'unica strada, insomma, tenendo presente poi un qualcosa invece di più generale che se hai a che fare con un manipolatore dovresti tolto dai piedi e trovatene in alto perché siamo in quasi 8 miliardi perché devi proprio tenerti un manipolatore, lo sai solo tu, insomma. Per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e iscriviti al canale e anche al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!